Mercoledì sera l'addio al sogno europeo con l'Italia, da ieri subito al lavoro per la Sidiga e Savellino. Coach Stefano Sacripanti ha ripreso la guida della Scandone, ben gestita dagli assistenti Oldoini e De Gennaro. Per il tecnico Cantorino è stato come tornare a casa nel nuovo approccio con la squadra. Io ho finito l'altra sera, mi sono buttato immediatamente in aeroporto, ho preso il primo aereo. Ieri ho allenato la squadra, ho trovato un buonissimo spirito, le ragazze che avevano voglia di vedere chi siamo, siamo molto curiosi di sapere chi siamo. La modalità di ingaggio non è cambiata, Avellino ha tesserato giocatori vogliosi di sposare il progetto Scandone. Sacripanti pensa già a nuove soluzioni nel reparto esterni. Abbiamo provato a prendere dei giocatori, speriamo solidi mentalmente, sempre con questa matrice di voler fortemente venire ad Avellino. Filhoi sicuramente ha fatto il cambio di Hackett, però poi da guardia forse ci può dare anche tanto. Fittipaldo un ottimo tirato d'uscita Brocchi, mi sembra che soprattutto Rich, Dercole, non ho ancora capito. Wells mi sembra che abbia abbastanza trattamento di palla per poter poi intercambiare questi ruoli. Però questo veramente, noi non siamo neanche l'abicisto già parlando di frasi molto lunghe e complesse.